Io sono nel bel teatro a Cagliari, il teatro lirico di Cagliari, dove farò Gertrude in Hansel in Gretto. Io sono così felice di ritornare a cantare in questo bel teatro, perché quasi vent'anni fa ho fatto il mio debutto in Italia. Io sono americana, ma in 2001 ho fatto il mio debutto in Italia qui a Cagliari come Abigail nell'opera di Nabucco di Verdi. È veramente un piacere ritornare a cantare in questo bel teatro con questo allestimento di Hansel in Gretto. Noi facciamo dal 13 dicembre fino al 22 dicembre nove recite. So, c'è tanti spazi per tutti, tutti, tutti. Venite voi tutti e vi aspettiamo qui a Cagliari. Ciao! Grazie! Grazie!